Cambiare partendo dal recupero dei valori e della morale, questo dovrebbero fare i politici secondo l'onorevole dell'Udc Paola Binetti che nell'Aula Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza di Bari ha presentato il suo libro Etica e Democrazia, edito da Lindau. Noi vorremmo che Etica e Democrazia diventasse davvero il binario da cui riparte la politica, perché una politica in crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni, come confermano anche l'andamento delle elezioni amministrative, esige di poter rigenerare se stessa in una dimensione di valori positivi, assunti con consapevolezza e anche direi con quella umiltà di chi riconosce gli errori commessi fino ad adesso, errori che le hanno alienato sostanzialmente la simpatia, la fiducia, il consenso da parte degli elettori. E questa è un po' la nostra sfida in questi, per esempio, prossimi nove mesi che ci separano dalla verifica delle elezioni politiche, dimostrare coi fatti agli elettori che siamo capaci di rifondare la politica su valori al servizio delle persone, al servizio dei cittadini, al servizio dei giovani che sono senza lavoro, un'intera generazione, la meglio gioventù potremmo dire che è privata del suo diritto a mostrare che cosa sa fare, che cosa può fare, ma direi anche al servizio delle famiglie che si trovano in condizioni sempre più drammatiche. Adesso che stanno arrivando le scadenze vere, penso alla scadenza dell'Imu a cui dovranno far fronte entro pochi giorni le famiglie, noi ci rendiamo conto del livello di impoverimento reale a cui sono andati incontro.